Buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. Un chilometro di coda per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Empoli ed Empoli-Est in direzione di Firenze. Sempre sulla strada di grande comunicazione, un veicolo in avaria tra l'interporto toscano-est e il Bivio con la 12 Cole Salvetti in direzione di Firenze. In A11 mezzi in lento movimento tra Montecatini-Terme e Chiesina-Ozanese in direzione di Pisa. Veniamo a Firenze, lavori in via d'Ardiglione e sostituzione della rete fognaria e idrica. Fino al 30 giugno il tratto da via dei Serragli a via Santa Monaca è chiuso. E infine per lavori di pavimentazione a Barberino di Mugello siamo in A1, sarà chiusa stanotte in entrata in entrambe le direzioni Roma e Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.